Allora Michele Fiorelli, 10 a 1 oggi davvero una brutta sconfitta? Il risultato inganna perché fino a 30 secondi alla fine del primo tempo eravamo sopra di un gol resistendo davvero ricamente e comunque alla fine abbiamo subito 8 gol perché sono 2 a 1 fino alla fine lottando, in 4 contro 5 fin dall'inizio Oggi formazione quindi a ranghi ridotti, come mai? Perché tutti i nostri compagni non sono stati sportivi perché comunque pensando che la salvezza sia già raggiunta e i play-out rimane evitabili hanno preferito rimanersene a casa Prossimo turno contro la capolista dei Poultry Shares partita comunque che si dovrà rinviare per attività formativa scolastica Sì sì, e vabbè diciamo ormai quel che è fatto è fatto perché se avevamo qualche speranza di salire a qualche posto in classifica oggi sicuramente possiamo scontare La partita più importante siete mancati? La partita più importante siamo mancati perché comunque E va bene, Michele alla prossima allora e buona gita Perfetto, grazie Ciao ciao ciao